Siamo a Mar. Dove sei? Vengo dal Sudan. Come ti senti qui in italiano? Ah, anche se no, bellissimo, bellissimo, tutti, tutti, io ho arrivato qua, tutti, 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 bellissimo. Come aiutare, come gente, come ha visto quel cosa, tutti, perfetti, 100%. Che grazie. Che cosa pensi di questo evento? Questa città? No, questa città, questo evento, questa situazione, questa partita, questa festa. Questa pomeggiano. Anche io, come dici, dici per tutti, e graziamo, graziamo, graziamo. Anche io, felice, molto molto felice. E grazie.